Le limitazioni alla circolazione che blinderanno l'area dell'arsenale di Venezia durante lo svolgimento del G20 di economia dal 7 all'11 luglio creeranno inevitabilmente piccoli e grandi problemi a chi abita, lavora o semplicemente deve arrivare o attraversare l'area interdetta. Ma si tratta sempre di disagi inevitabili? Il vaporetto che porta all'ospedale, ad esempio, il cui pontile appare ancora distante da dove inizia la zona rossa, si fermerà prima all'imbarcadero di Fondamente 9. Fra l'ospedale e la zona rossa c'è tutta la zona di San Francesco della Vigna e oggettivamente questa decisione di ACTV ci sfugge. Ci sfugge la logica ed è per questo che ho presentato un'interrogazione chiedendo all'assessore competente se sindaco e assessore sono stati informati, se è stata avvallata questa decisione di ACTV e se è possibile di rievocarla perché saremmo ancora in tempo a far marci indietro e a dire che chi parte da San Pietro di Castello o Sant'Elena può arrivare all'ospedale senza dover fare il giro del mondo in 80 giorni. Marco Gasparinetti ricorda come nell'ordinanza si parlasse di tre fermate sospese, Celesti, Abacini e Arsenale. È assolutamente folle dal punto di vista degli anziani, dei disabili e delle persone in mobilità ridotte a pensare ad esempio chi vive qui, San Pietro di Castello o Sant'Elena, dovrà già fare un giro lunghissimo passando da Murano per andare a Fondamenta 9. A Fondamenta 9 dovranno scendere e ci si dice che a partire da Fondamenta 9 ci sarà un servizio di navetta su imbarcazioni più piccole per portare l'ospedale. Ma questa è folia pure ed è anche uno spreco di denaro pubblico. Più in generale il gruppo Terreacqua ha anche chiesto un accesso agli atti di AVM, la holding che controlla ACTV ed è controllata al 100% dal comune di Venezia. Noi vorremmo sapere quanto ha speso finora AVM per il subaffidamento a società private di tutta una serie di servizi di navigazione e potremmo aggiungere anche questo servizio ospedale per i prossimi giorni.